E quindi è un capo magnetico, un piccolo capo magnetico, quindi gli squali facciano così. E lui nello stesso modo, le ha sul becco queste cellule e permette di sentire, capitare, così le prende. Permette di scapire dove sono. E si chiama elettrolocazione, questa cosa. Ma è un mammifero, un pesce, un uccello, un insetto, che animale è? È un mammifero? No, aspetta, è un miscudio di potrà ricordare. Ma com'è classificato? Mammifero. Mammifero, mammifero. Perché si chiama come il mammifero. Mammifero, mammifero. Mammifero, mammifero. Mammifero, mammifero. Mammifero, mammifero. Mammifero, mammifero.